A Pescara non poteva mancare un festival di satira nella città di Flaiano. La satira in Italia, che prima molto attiva, molto accesa, che i giornali come Cuore, i parmi televisivi come l'Ottavo Unano, si è un po' affievolita, ma intanto è entrata fortissimo nel web. La satira web sta sconfiando con dei grandissimi nomi, coinvolge molto. E avremmo quindi fare dall'anno scorso un appuntamento nazionale con il meglio della satira che abbiamo in questo paese, con il meglio della satira web, con tantissimi ospiti. L'anno scorso tentammo questo esperimento e andò benissimo con una enorme partecipazione. Quest'anno lo rifacciamo implementato, durerà un giorno in più e si farà il Museo Vittorio Colonna di Pescara, un luogo bellissimo che sarà acceso da intelligenza, idea, risate e satira per tre giorni insieme. Questa manifestazione nei tre giorni vedrà susseguirsi workshop, battle di satira improvvisata, le finali della musica del merda World Cup presso uno stabilimento balneare, ma soprattutto vedrà oltre 30 eventi tra cui l'evento di punta è sicuramente lo stand-up on the beach, quindi open mic sulla spiaggia con nomi quali Saverio Raimondo e buona parte dello staff di Comedy Central Television. Oltre a questo, dicevo, oltre 30 pagine che vanno da fotografie segnanti alle più belle frasi di Oscio, a Carlo Maria Roggito, a prodotti a chilometro zero del territorio, della satira del territorio, dico un nome su tutti, Fabio Celenza, diventato incredibilmente famoso con i suoi doppiaggi su YouTube.